Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un video diverso dal solito perché sarà un video challenge. La sfida consiste in colorare un'illustrazione con a disposizione soltanto tre pantoni. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale abito preferite tra queste tre opzioni, la A, la B o la C. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche per non perdere tutti i miei prossimi video. Seguitemi sui miei social Facebook e Instagram come Curie School of Fashion Drawing. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.